Oggi assaggiamo una stout, una stout italiana, questa è la Sweet Stout. Allora, vediamo la scheda tecnica di questa birra, appunto la Sweet Stout, birrificio etnia, birrificio italiano, per essere precisi è un birrificio di pavia. Come stile appunto si tratta di una stout da 4,7 gradi per quanto riguarda il volume alcolico. Il prezzo, allora, in questo caso è spilata direttamente alla spina, ma si trova online, un birrificio online che è appena controllato, a 3,70 euro, la bottiglia da 33 centilitri. Il bicchiere consigliato è la pinta, in qualche caso le stout vengono servite anche nello snifter o pallone, ma vediamo poi la differenza, e non si tratta di un primo assaggio. Allora, il bicchiere appunto in questione è una pinta, una pinta da 0,4 in questo caso, si è già smontata la schiuma, ma appunto è stata spilata già da un pochino di tempo. Dicevo che in certi casi le stout vengono servite nei palloni, ma i bicchieri a pallone vengono indicati soprattutto per le cosiddette imperial stout o imperial porter, diciamo tutte quelle birre con un grado alcolico più elevato e di conseguenza anche un corpo spesso un pochino più denso rispetto alle stout, appunto a bassa gradazione alcolica. In ogni caso il bicchiere tipico appunto per questo stile resta la pinta, che sia inglese o americano, o comunque bicchieri aperti. Vediamo subito questa birra, allora dicevo birrificio, etnia, un birrificio pavese, si trova molto vicino a dove sto registrando in questo caso. Una cosa molto interessante di questo birrificio è che hanno tutta una linea di birra senza glutine, e ho avuto il piacere di parlare anche con appunto il reparto commerciale, stanno investendo molto su questo aspetto. È necessario precisare che la birra di per sé, cioè non può esistere una birra fermentata senza glutine, nel momento che si tratta di fermentazione di un mosso di cereali, i cereali di per sé contengono il glutine. Infatti questo birrificio, mi raccontavano, fanno tutto un processo di rimozione del glutine attraverso un sistema di enzimi, che quindi tendono a separare il glutine dal resto delle componenti. Dopodiché viene fatto ovviamente analizzare dall'università di Pavia, peraltro, il contenuto appunto in glutine di questa birra, e cosa molto interessante, su tutte le bottiglie trovate un QR code, quei codici con dei quadratini bianchi e neri, e inquadrando il QR code col telefono potete, in automatico vi collegate, potete scaricarvi o leggervi semplicemente il certificato rilasciato dall'università, che appunto attesta l'assenza di glutine in questa birra. È una cosa interessante perché appunto ho visto che stanno investendo tanto in questa direzione. Ho avuto anche l'opportunità di assaggiare entrambe le birre, sia prima che fossero tutte in versione gluten free, sia quelle diciamo con glutine, e devo dire che il gusto resta completamente invariato, quindi è solo un vantaggio per chi magari non può, diciamo, perché si non può appunto consumare cibi con il glutine, e si perde una cosa buonissima come le birre. Ormai appunto la schiuma se n'è andata, ma vediamo un po' di fare un'analisi. Allora, la schiuma appunto è poco persistente, come abbiamo potuto vedere, è un bel color crema, molto molto fine, e la birra è un bellissimo color, praticamente un nero impenetrabile, direi un colore ebano per attenerci un po' alle linee guida utilizzate per i concorsi. Una precisazione, molte stout vengono spesso spillate con sistemi a carboazoto, quindi una miscela di anidrocarbonica e azoto, le cui quantità possono variare. È chiamato anche appunto questo gas Guinness, proprio perché l'industria irlandese Guinness costruisce impianti per la propria birra, che funzionano con queste miscele. In questo caso è stata spillata con un impianto invece a sola CO2. La grossa differenza tra i due modi di spillare la birra sta semplicemente nel fatto che l'anidrocarbonica, a contatto con la birra, in piccola parte si discioglie all'interno della birra stessa. Quindi qui sta a chi gestisce, al publican, a chi gestisce l'impianto di spillatura, calibrare bene in base a tanti fattori come la lunghezza del percorso che la birra fa all'interno del cosiddetto pitone, cioè dal fusto al rubinetto, alla temperatura esterna, alla temperatura del fusto, alle resistenze che vengono calcolate dal diametro delle tubature, eccetera, eccetera. Bisogna valutare qual è la corretta contropressione, quindi quanto l'anidrocarbonica deve spingere fuori il prodotto. Il carboazoto è una miscela di gas più inerte rispetto all'anidrocarbonica e dovrebbe garantire quindi una minore saturazione del prodotto, ossia una minore quantità di anidrocarbonica che si discioglie all'interno del liquido. Ora, se la calibrazione è fatta in maniera precisa, non si avverte la differenza tra la birra spillata con un solo anidrocarbonica o solo carboazoto. Di sicuro il carboazoto può aiutare in certi casi, soprattutto se pensate alla ghina spillata appunto alla spina, dà tutta una certa cremosità soprattutto sulla parte, diciamo, superiore dove c'è la schiuma. Dopo che fa l'alcosiddetto effetto a cascata si crea una schiuma molto, molto, molto cremosa. Se però l'impianto è regolato in maniera corretta e la persona che spila la birra sa quello che sta facendo, si riesce a ottenere anche con l'anidrocarbonica una schiuma molto, molto cremosa. Cosa che in questo caso è successa, ma ovviamente non è una schiuma molto persistente, quindi avendo spillato la birra prima ancora di iniziare a registrare, ormai è completamente svanita questa schiuma. Passiamo quindi all'analisi sensoriale. Allora, come in quasi tutte le birre stout, si sente molto, molto bene questo tono appunto dato dall'orzo tostato. Infatti arrivano subito questi profumi di caffè molto, molto buoni. Diciamo che c'è anche, oltre al tostato, c'è anche qualcosa che ricorda in piccola parte la liquirizia, ma c'è anche qualcosa che ricorda un pochino il cioccolato. Diciamo che principalmente ciò che arriva è ovviamente questo buonissimo profumo tostato, torrefatto, e poi dopo c'è appunto qualche piccola nota che va anche in quella direzione. Anche in bocca ritroviamo più o meno le cose che abbiamo sentito al naso, cioè principalmente la cosa appunto più importante di questa birra in bocca e resta questo buon sapore amaricante dato dal tostato, quindi non è un amaro che va verso il lupolo, è un amaro che va proprio verso il tostato e il torrefatto. Il corpo è molto, molto leggero, non si avverte un'eccessiva carbonazione di questa birra, appunto nonostante non sia spillato con carbozoto, ma appunto come dicevo dipende molto da come viene calibrato poi tutto il sistema di spillatura. Il retrogusto appunto non è eccessivamente persistente, lascia però la bocca non eccessivamente pulita, nel senso che a differenza di certe ipa che spazzano completamente con l'amaro il palato, qui resta comunque voglia già di bere un altro sorso. Questa appunto era la sweet stout di Etnia, un birrificio italiano, Scal. Grazie a tutti. Grazie a tutti.